Buongiorno, benvenuti a bordo del treno Frecciarossa, 95, 14, il treno fermerà a Roma Termini, Firenze-Santa Maria Novella, Bologna Centrale, e arriverà a Milano Centrale, alle ore 13 e 45 minuti, Tren Italia, vi augura buon viaggio. Buongiorno, benvenuti a bordo del treno Frecciarossa, 95, 14, il treno fermerà a Roma Termini, Firenze-Santa Maria Novella, Bologna Centrale, e arriverà a Milano Centrale, alle ore 13 e 45 minuti, Tren Italia, vi augura buona giornata. Informiamo che su questo treno è prevista la presenza di un operatore dedicato alla polizia delle tunette e delle vetture. L'operatore e il personale di bordo sono a vostra disposizione per eventuali segnalazioni. L'operatore è informato che la presenza di un personaggio di bordo con il treno. L'operatore può prezegare a lui o il treno per le rinze, per le rinze e le tassi, per le rinze riguardo con la prezegare delle tassi e le tassi. La presenza di un personaggio di bordo con il treno,